Ma questo sono io! Ma che cazzo è? Si stanno picchiando una donna! 60 streamer che si picchiano! E la rissa di Twitch Italia più grande mai realizzata! Ebbene sì, ho organizzato un torneo solo pugni! Si parte! No scudo, no scudo, solo pugni! Si parte signori! Parte subito Alien Baby! Vediamo! Gli casca subito l'arma, vuole prendere i perk! Alien vuole fare male! Vediamo lo scudo se lo butta! Lo butta e si mette subito con i pugni in mano! Stà partita, secondo me, verso la fine sarà un macello! Tutti che corrono! Tutti che si menano! Guarda Simo, lo butta! No, guarda quanti ce n'aveva già! Li butta! Mamma Paola cosa fai con quella pistola? Mamma Paola, butta quell'arma! No, maschera! Voglio che stanno tutti dentro e si scandano! Devono stare tutti nel cerchio! Tutti che si menano! La parte più tosta del torneo, dove veramente bisogna... Mamma Paola prende subito i pugni e è in carica! Occhio! Ferdice ha uno sotto! Ferdice ha uno sotto! Cazzottata dell'anno, ragazzi, sì! Questa è la più grande rissa mai organizzata su Twitch Italia! Dai, Dari, che parte! Ancora 63 persone in vita, ragazzi! Parte subito! Dammi, ammazza... Singimi! Ghost Andre che vede qualcuno! C'è Zeta Goal che sta inseguendo qualcuno da 5 minuti! Andiamo a vedere, andiamo a vedere! E' per te il doppio scontro! Qua si sono menati, qui! Si sono menati, ragazzi! Regà, tra un po' si scandano! Sono di coglioni! Guarda sta in Perpigna che vede quello che scappa! Guarda come stanno scappando! Sta in Perpigna a parte! Vuole fare appugni! Vuole fare appugni! Guarda come scappa quello! Guardate! Ha sempre un coglione! Guarda come scappa! Via! Aspetta, metto la canzone Benilti! Prego, ti prego, ti prego! Continuiamo in seguirlo! Stanno volando tutti! Si stanno cagando sotto! Guarda, guarda sotto! Oh! Ma questo sono io! Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma questo che cazzo è? Ma chi è? Ma non sono io! Oddio! Queste Perpigna forse gli vena... Oddio! Che destro! Si stanno picchiando una donna! Oddio! Ma si stanno timmando! Ma si stanno timmando, ragazzi! Le ragazze stanno timmando! Le ragazze stanno timmando, ragazzi! La parte finale sarà la più bella, regà! Mi sarebbe da chiamare se hanno il coraggio di picchiarsi tipo sul fiume, ma nessuno ce l'ha! Ma regà, guarda, io la faccio vedere a tutti questa dove chiudo la safe, così, guarda tutti in là! Ma no, regà, chiudo in una casa, regà! Non posso neanche volare, chiudo in una casa! Sarà una rissa totale, regà! Sarà una rissa totale, regà! 55 persone ancora in vita! E tanto prima o poi la safe si chiude e poi si danno una mena, eh! Regà, ma Vortex ha un fabbro! È Rocky! Vortex ha un fabbro pure con i pugni! Ma che cazzo? Ragazzi, ma Jesus dove cazzo si è me? Regà, ma Jesus è un caca sotto! Se dovesse scoppiare una rissa non lo invito! Cioè, non lo inviterò mai, bro! È uno di quelli che si gira... Dov'è? Dov'è? Dov'è Jesus? Sti giri sta sopra un palo! Può fare qualcosa! Aiuto! Aiuto! Scegliamo da quella ante... Regà, ma si stanno menando in aria, regà! C'è gente che prova a picchiarsi in aria! Ma regà, ma questi qua si guardano! Guarda Ninnu Salamino! Guarda, guarda quell'altro che si avvicina piano piano! Guardate quella che si avvicina piano piano! Tra un po' la safe finisce, regà, i balloni ci stanno più, eh! Madlioni sta cercando di comunicare tramite pugni con una papera! Ma la papera non ne vuole sapere, se ne va! Ma guarda pure Blade dove sta! Guarda quanti stanno sull'antenna, ragazzi! No, Duke ha spolestato Jesus, oh! Tra un po' si devono menare, regà! Cioè, è inutile! Cioè, tra un po' parte la rissa, eh! 51 persone ancora, regà! Ronnie sta picchiando tutti, bro! Ronnie sei kill! Ma come sei kill? Ma ragazzi, guarda quanta gente c'è che vola, regà! System tirava Samtex e Smoke! Il ballonna valgono, il ballonna valgono! Guarda, Vortex! Guarda, Vortex! Guarda, Vortex colpisce e scappa! Aspetta, aspetta! Gabs, ma dove sta Gabs? Sta scagando parepibbo! Dove sta? Guarda Simo, guarda Simo, 3 kill! Guarda questi... Ragazzi, ma guarda Freddy, ma questi stanno timmando, guardate! Guardate Freddy e Gabs! Che vogliono spittarsi le samba, guardate! Stanno fermi! 50 persone, 48 persone, ragazzi! Regà, e mo, e mo, e mo, e mo parte la risa, eh! Naked sembra un peluche! Quanta gente c'è! Tutti in volo! La mappa, bro, è un buco di culo! Tra un po', ma poi i ballonna finiscono, regà, si rompono! Qui non ci sono più, a meno che non c'è il portatile, ma... Ma lo rompono coi pugni, capito? Guarda che cagasotto che scappano tutti, guarda! Questo è morto! Da adesso, no, ballon! Vabbè, è bello vedere chi volano! Sembrano dei rincoglioniti, è vero, guarda! Non è che sembrano! Guarda solo dei rincoglioniti, guarda, guarda! E parte, sta per partire, signori! La sfida è la rissa di Twitch Italia più grande mai realizzata! 60 streamer che si picchiano! Lizzu, pronti tutti! Sta per finire, guarda dei primi ballon che cominciano a partire! Ma sta per terminare tutto! Ci sono dei ballon per terra che vengono raccolti da Stemperpigna! Guardate che volano! MyCandy vola via! Stanno cercando di volare tutti, ma si impallano, guardate! Giugheranno di safe, giugheranno di safe! Barry, Barry vuole... Si mette placche, Barry, perde le placche! Guardate là, una rissa! Una rissa! Contro la papera, malmenata! È Ronia, è Vortex quello che sta correndo! Stanno combattendo, stanno combattendo! E Fabi Pro lo stanno picchiando! Fabi Pro è picchiato, c'era uno dietro, Fabi Pro scappa! Scappa Fabi! Eccole qua, parte la rissa, si placca! Fabi Pro è malmenato! Fabi Pro, quasi morto, Fabi Pro! Ah! Gli UQD Cinesi hanno ancora, che si è spazzato, Fabi Pro riesce a scappare! Ribex, che si vede, Magmone Nazionale parte subito! 46 player! La safe è piccolissima, 46 persone, ragazzi! Di Gianni, Di Gianni è pronto! Oh! Guarda, guarda, guarda! Guarda quello che sta ammenando uno, guardate! Quello l'ha ammenato uno! Quello è Vortex! Vortex! Vortex ha ammenato uno! Gli ha dato i calci! Guarda quanti pallone, raga! Guarda quanti! Sono finiti i pallone! Guardate, sono tornati tutti su! Guardate, c'è Giacola che stanno... Guarda quanti! Barry! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda, guarda! Guarda, guarda come vuole lo che... Sembra un altro gioco! Un altro gioco! Che cazzo è Flight Simulator? Via! Mo si sposta pure da sempre! È diventato un gioco di farvelo dire! Guarda quanta gente c'è in pallone, raga! Guarda quanti sono! Occhio! Ti c'ho un cavo! Guarda quanti sono su un cavo, raga! Ci sta bloccando! No, mo si chiude, eh! Mo si chiude, eh! Guarda, ragazzi, su quel tetto qualcuno dovrà pur vincere, raga! Però ti c'è una kill! Guarda, guarda, guarda là tutti che cercano di proteggersi ma non combattono! Eh, la tattica della scala, eh! La tattica della scala potrebbe essere... Guarda, Vortex, 8 kill! Vortex è fermo, raga! Ah, è sulla scala! Fortissima è stata! Mamma mia, geniale! Geniale! Questa è la tattica... Questa è 1000 IQ, bro! 1000 IQ, la tattica della scala! Raga, geniale! Geniale! E' geniale, bro! Non lo possono colpire! Non lo possono colpire, bro! Ragazzi, questa è la prima risa senza bo... Eh, qua mo si scandala, bro! Eh, ma è qua, ragazzi, è qua mo parte, eh! È qua, guarda, guarda! Mia, guarda, io! Vedi che si rompono i palunni, non riesco... Guarda, guarda quanti! Eh, ma arriva la scelta, la scelta! Eh, ma qua vince sotto, chi sta sotto? Guarda, 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 non si infila! C'è chi vince, regà, chi cazzo vince? Guarda sotto, se stanno malmenati! Le volte, mi senti che malescende! Oooo, è partita la risa sotto, certo! Sono ancora epporto! Potamba! Vedeteve! Vedeteve! Ci stanno menando! Chi cazzo sta vincendo? Non riesco a vedere chi vince, regà, è troppo veloce le botte! Oddio ha vinto Zanx Ha vinto Zanx Ha vinto Zanx Non ci credo Ha rivinto lui Ha vinto Zanx Non ci credo Guarda come Guarda come Guarda il pool Eccolo Vediamo come ha vinto Guarda come è sulta Voglio andare a vedere come è sulta Voglio vedere come è sulta Voglio vedere la sua pop Ha fatto a vincere Ragazzi ha fatto a vincere L'aveva messa pure lui Evito of the Tiger Che sta facendo Oddio sta andando a prendere qualcosa Oh Oh sta andando a prendere qualcosa Per tirare i pugni Che sta facendo Oddio È impazzito È impazzito Guardalo Col pigiama È imprendibile Ha colpito L'ho colpito L'ho colpito Zanx Tyson No voglio andare a vedere il pod Guarda 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 Mamma mau Non vede un cazzo raga Che lui è rimasto giù Che altri sono morti dei sei Eh no lui è sceso qua Guarda guarda qua Ha preso spazio Non ha preso danno Marto Poco danno dalla seda No vedi ci si è ricaricata la vita bro Uccidendo E si è ricaricata la vita uccidendo bro Voglio vedere quanto esulta Si è ricaricata la vita uccidendo Sì bro Sono uscito Cinque zio Guarda qua Ho preso quel da Vinto io Non ci credo zio No Geniale Guarda quanto ce l'ha rimasto Guarda come salta guarda Geniale Che ha pinto Ragazzo Che cazzo Ma al prossimo game jolly Secondo me spade bro Roba così Solo pistola iniziale La pistola iniziale bro Grazie a tutti